potrei dire che non c'è dubbio che se io metto tutte le sere per un certo periodo di tempo delle esecuzioni di morte in diretta faccio un ascolto altissimo pena di morte in diretta audience ai massimi livelli garantiti perché parlo per una provocazione paradosso perché voglio dire che se tu vai dietro anche alle cose più se frughi nella pancia di ognuno di noi nei meandri meno nobili puoi fare di tutto di più ognuno di noi ha delle parti che sono se stuzzicate meno nobili ma allora la domanda la questione è io come giornalista vado a stuzzicare quelle parti lì o vado a stimolarne delle altre dobbiamo porcelo questo problema sì o no